Esploriamo dunque le tipologie di file che possiamo creare. Facciamo nuovamente clic sul mio drive e andiamo ad esaminare documenti Google. Questi sono da intendere come documenti di testo. Qua possiamo consentire l'apertura di questa pagina e vediamo che si apre una pagina bianca, esattamente come si aprirebbe in Word, con la possibilità di scrivere, naturalmente, la possibilità di editare questo testo con il menu a cui siamo, devo dire, ormai da tanti anni abituati. Quindi io posso scrivere qualche cosa a la mispa Teresa Correa sull'erbetta, no, tra l'erbetta, va bene, non mi ricordo più com'è, e di questo testo, naturalmente, posso formattarlo. Posso cambiare colore, posso cambiare dimensione del carattere, posso cambiare il font, posso farlo diventare titolo o intestazione. Queste sono, diciamo, modalità che assomigliano un po' di più a quelle delle pagine web. Testo normale in questo momento. Posso cambiare il colore del testo, diventato rosso, posso farlo diventare grassetto, corsivo, sottolineato, e così via dicendo. Naturalmente posso inserire un link ipertestuale, per esempio, adesso non lo voglio più in questo modo, non lo voglio in rosso, lo voglio nel colore normale, link ipertestuale al sito della mia scuola, per esempio, giusto per avere, anzi, facciamo una cosa, lo linkiamo al mio blog, così mi faccio un po' di pubblicità, quindi www.columba.it, questo è l'indirizzo, però non lo voglio sottolineato, togliamo di mezzo la sottolineatura, ecco qua. www, posso copiare, faccio clic sul link, già è stato riconosciuto come indirizzo web, e è stato direttamente creato il link, altrimenti se avessi fatto un'altra pagina, cliccando sul segnalino della catenella del link, potrei incollare il link su questa parte, in questo campo, e rendere parola calda, parola attiva, la parola che ho selezionato. Ora, ci sono tantissime possibilità, possiamo fare liste numerate o liste puntate, possiamo indentare o meno il testo, possiamo naturalmente inserire delle tabelle, in questo caso ho inserito una tabella a due colonne per tre righe, e insomma inserire delle immagini, inserire anche delle equazioni, dei disegni, questo è abbastanza interessante per chi fa matematica, e praticamente abbiamo a disposizione un ambiente di editing del documento, di creazione di editing del documento, molto completo. Per avere il titolo, lo possiamo scrivere qua, test scrittura 1, non mi sono sprecato per fantasia, ed è già registrato, non abbiamo problema di dimenticare la registrazione di questo documento, quindi non possiamo perderlo mai. Anche questo documento può essere condiviso, per esempio facendo clic su questo pulsante, in questo momento è privato di questo indirizzo, altrimenti può essere condiviso, come abbiamo visto prima, tramite link, oppure posso inserire degli indirizzi di utenti che possono leggere o possono eventualmente anche editare questo stesso file. Vediamo che settando da questo pulsante c'è la matitina, possiamo stabilire se l'utente il cui indirizzo mail stiamo scrivendo qua, l'utente presso cui stiamo condividendo questo file di testo, può modificare, può commentare o può solamente visualizzare. Quindi abbiamo anche tre possibilità differenti di politica e di sicurezza rispetto a questo testo.